Prima ripresa Grazie 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 Fine di questa prima ripresa Seconda ripresa Grazie 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 Siamo a metà match Terza ripresa Siamo a metà match Siamo a metà match Siamo a metà match Il fine anche di questa terza ripresa Quarta ed ultima ripresa Siamo a metà match 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 E finisce anche questo ultimo E vince questo match L'abbiamo a metà match Grazie 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 Grazie